Che numeri le statistiche dell'ultima giornata fanno riflettere molto. Cade per la prima volta il Catanzaro, fatale alla scuola di Bilarini, il Rocchi di Viterbo, prima sconfitta nelle 27 partite per le Acule, che comunque conservano i 10 punti di distacco dal Crotone. Ci ha poi l'aziale di Mr. Lopez che si sono tolti una grandissima soddisfazione. Il 12 febbraio per la Lega Pro è data storica perché il Catanzaro insieme al Monza era l'unica squadra che anche nel 2023 non aveva conosciuto sconfitta e adesso resti immacolata solo quella di Palladino in Serie A. Con quella di Lerda e De Sanso sono 19 le panchine cambiate nel girone C, record assoluto. Basti pensare che nel girone B ne sono cambiate quasi la metà con 9, mentre nel girone A 12, sintomo che al sud c'è meno pazienza rispetto al nord e centro Italia. Due soltanto le vittorie in trasferte, tutte pesanti in zona salvezza. Quelle del Messina ad Agropoli in casa della Gerbison, targata Kragl, e quelle del Monterosi al Partelio contro Giuliano. In Latina nonostante ha chiuso la gara in 11 contro la Virtus Francaville, gara vinta 2-1 in rimonta e la squadra con più rossi stagione. Ben sette volte i calcetori pontini si sono visti sventolare il cartellino più severo. Ultimo numero riguarda il Foggia. Anche se la compagine satanella di Mister Gallo nelle ultime due partite ha strappato soltanto due punti è l'unica compagine che nelle ultime cinque partite non ha conosciuto la sconfitta.